Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video spacchettamento. Ho già dovuto togliere l'involucro perché la prudenza non è mai troppa, ma ho qui un pacchettino che mi è arrivato da Tiffany & Co. È il mio primo acquistino su Tiffany & Co e non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Faccio questo video perché può essere sempre utile vedere com'è lo spacchettamento di un prodotto acquistato online. Io ho acquistato sul loro store ufficiale, quindi è tutto scritto in italiano, vi trovate benissimo. Spediscono però, ho visto, dall'Inghilterra, per cui non so se il prossimo anno ci sarà la dogana da pagare. Io per quest'ordine non l'ho dovuta pagare, però ci sarebbero anche altre cosine che vorrei e non lo so se riuscirò a prendere il prossimo anno perché ho un pochino di paura per la questione dogana. Però, a parte questo, molte di voi mi hanno chiesto se spediscono con la bustina, se spediscono con il fiocchettino, no? Insomma, se l'esperienza d'acquisto online è identica o comunque simile o si avvicina anche solamente a quella in boutique. Dunque, sono stata in boutique ma non ho mai comprato nulla. Quando ero più piccola non potevo permettermelo. Purtroppo, non avendo una boutique vicina, ho dovuto fare così per forza e sono stata, anzi, indecisa fra due prodotti per un sacco di tempo. Quello che ho preso è la collana con le palline lunga oppure con la catenina, però lunga perché mi conosco e le collane lunghe sono a tutti gli effetti quelle che porto di più perché sono anche più facili da togliere e mettere, basta praticamente sollevarsele come fossero una maglia praticamente mentre queste qua, più piccoline e più corte, c'è proprio il gancetto, ci devi perdere del tempo. E solitamente non mi va, cioè io sono una che non ha voglia di stare dietro a queste cose e gli accessori, anche perché non li porto né per dormire né per fare la doccia. Quindi, sono spesso a togliere e rimettere gli accessori e per questo ero molto frenata, però me ne sono totalmente innamorata quando l'ho vista, quindi ho deciso di prenderla. Allora, bando alle ciance, vi dico già che arriva con tutto, quindi bustina, pacchettino e carta velina, fattura che ho già tolto. Quindi, insomma, possiamo andare ad aprire la nostra velina. Come vedete qua c'è un po' di scotch. Beh, questa fa nulla se la rompete perché tanto non dice nulla. È giusto per, olè, scoprire il tesoro che c'è poi all'interno. Che è veramente un tesoro, cioè anche solo così il pack, cioè è pazzesco, è bellissima questa scatolina. La amo, cioè cosa vi devo dire, la amo. E oltre alla scatolina che poi andremo ad aprire, troverete una bustina, così, con un bigliettino sempre stampato Tiffany & Co. Nel caso, appunto, a voi vogliate fare un regalo, potete scrivere, non lo so, tanti auguri di buon Natale, tanti auguri di buon compleanno. E appunto spedirla alla persona che poi volete, o comunque darla alla persona che volete, metterlo sotto l'albero. Insomma, sono veramente dei geni, bellissimo. La bustina che ve lo dico a fare, ovviamente la mettono perché anche il packaging di questo brand parla da solo. E ovviamente, chi non la vorrebbe la bustina, parliamoci chiaro. Io è la prima cosa che sono andata a vedere nei video delle americane. Se davano o no la bustina. Quando ho visto che la davano ho detto no. Perché come sapete io tengo tutti i packaging, non butto via niente ultimamente. Deve stare tutto bello esposto. E nulla, quindi, abbiamo il nostro pacchettino strabello, stra carino, super super azzurro. Io non vedo letteralmente l'ora di aprirlo. E sarò sincera, non so neanche come aprirlo, perché io non voglio tirare il fiocco e disfarlo. Cioè, lo voglio così per le foto. È bellissimo, perché dovrei aprirlo? Vediamo se magari riesco a sfilarlo così senza... Scusatemi se non tolgo il fiocco, ma è troppo bello. E penso che io non riuscirei a replicarlo. Ho guardato, prima di fare questo acquisto, anche online, nel caso trovassi qualcosa... È rimasto integro. Bene. Ho guardato anche online, nel caso trovassi dei prodotti a minor prezzo. Ci sono anche ragazze, proprio profili Facebook, che rivendono Tiffany usati, rigenerati, super rigenizzati, eccetera. Però, non lo so, io i gioielli li vedo come una cosa intima. E già a Pandora prenderli usati mi scoccia. Mettere anche una collanina, una catenina, eccetera, mi darebbe un sacco fastidio, perché comunque una persona ce l'ha sempre al collo. Va bene che è sterilizzata, quello che volete. Però, insomma, preferivo, come primo acquisto sicuramente, prenderlo originale. Piuttosto allora aspetto un po' e non lo prendo per niente. Ad esempio c'è il bracciale che mi piace tanto, però anche lì non saprei regolarmi con il mio polso. Non so se dovrei prendere una 19, una 18, non so neanche se c'è la 19 in realtà. Quindi mi sono buttata sul mondo delle catenine. E la prima che ho preso è... Oddio il sacchettino, quanto è carino, è vero, non mi ricordavo che c'era anche il sacchettino. Allora, all'interno della confezione troviamo il sacchettino color Tiffany, che è una meraviglia. Cioè, che ve lo dico a fare, è pazzesco. Cioè, bello, bello, bello tutto. Qui credo sia il certificatino di garanzia. Ah, ok, vi spiega in realtà come prendersi cura del vostro gioiello Tiffany. E all'interno c'è questa specie di spugnetta morbida. Quindi il gioiellino è non protetto di più. Fantastico. Comunque, quello che ho preso è qui dentro. Vi dico già che l'ho preso non della prima misura, ma della seconda. In modo che mi stia un po' più largo, perché le collanine troppo strette non ce la posso fare a tenerle su. E quindi, taran, proprio taran, sono troppo felice. Ok, allora, una volta tirata fuori, la collanina si presenta così. Quindi ha anche questi due pannetti che proteggono i due ciondolini, che adesso andiamo subito a liberare. Anche se in realtà... Ah, ok. Eccolo qua, il primo è questo, che è appunto, che bello che è, con la scrittina Please return a tutti i fanico New York 925. La qualità appunto dell'argento. E di qua, io ho scelto quello con il pendentino. E aspettate che li mettiamo vicini. Con il pendentino azzurro. Eccola qui. No, vabbè. No, vabbè. Che cosa non è? È troppo bello, è troppo azzurro, è troppo Tiffany. Cioè, è veramente bellissimo. Ovviamente vi avvicino, se no non vedete una cippa. Eccolo qui. Vi faccio... Ok. Vedere. Bellissimo. Veramente bello, bello, bello. Come vi dicevo, questa catenina, se non sbaglio, è 18 inch. Se non erro. Perché avevo paura che Amy stesse troppo stretta. In realtà questa qui mi sta proprio giusta, giusta. Per questo io avevo tutta l'intenzione di acquistare la catena, quella più lunga. Insomma, con la collana un pochino, con il ciondolino un po' più grande. Però costava veramente un sacco. E io mi sono già autoregalato il telefono. Per cui dovevo darmi per forza una regolata. E quindi si è iniziato con questo. Poi sicuramente, magari per il mio compleanno, vediamo più avanti, prenderò anche quella lunga con il charm più grande, medio. Eccolo qua, il pendentino. C'è anche la versione con il pendentino rosa pastello, che è bellissima. Però come primo pezzo Tiffany ci tenevo che fosse un colore classico. Quindi proprio l'azzurro Tiffany, comunque il celestino Tiffany. E nulla, io sono innamorata di questa collana. Cosa vi devo dire? È bellissima. Sicuramente la indosserò il più presto possibile. Per cui se volete vedere come mi sta, eccetera, seguitemi su Instagram, così vedete un po' anche l'effetto che ha sul collo. E nulla, cioè la amo letteralmente. Anche i pezzi più grandi. Sono bellissimi. C'erano quelli con il cuoricione medio, con lo splash tutto azzurro, che mi facevano letteralmente morire. Però sì, insomma, costa Tiffany. È un brand che si fa pagare. Purtroppo io non ho la boutique vicino, quindi ho dovuto per forza fare così. Però mi ritengo super soddisfatta, perché veramente sono esterrefatta sia dalla qualità, dalla luminosità e dalla bellezza di questi due ciondolini. Ho visto che vanno un sacco comunque queste catenine qui. C'è anche la versione bracciale, ma come vi dicevo ho un sacco paura che a me possa non andare bene perché ho il posto un po' ciccino. Insomma, non hanno il prezzo di Pandora, per cui non voglio fare nessuna gaff, niente del genere. Per cui magari aspetto un po' prima di capire se lo voglio davvero oppure no. O comunque, magari se mi capiterà in futuro, ho passato questo brutto periodo di passare a Milano. Penso che ci sia Tiffany a Milano. Andrò sicuramente in boutique e eventualmente lo provo, così mi tolgo ogni dubbio praticamente. E nulla, quindi questo era il mio acquistino, il mio secondo autoregalo, che è pazzesco, sono troppo felice. Non vedo l'ora di indossarla, di portarla un po', e nulla, è bellissima. Cosa volete che vi dica? È stupenda, non gli trovo un difetto. Sicuramente Tiffany è un brand che si fa pagare. Hanno anche bracciale componibile con i charm, ma i charm costano tipo 200 euro l'uno. Sono stupendi, tutti in color Tiffany, però sinceramente costano davvero, davvero troppo. Per cui i charm al momento rimangono lì. Io piano piano voglio iniziare una collezione anche di Tiffany, perché come vi dicevo mi sono innamorata di questa collanina qui. Fatemi sapere sotto se voi conoscete questo brand, se vi piace soprattutto, e se avete dei pezzi di Tiffany, fatemelo sapere sotto, perché io sono super super curiosa. Voglio sapere ogni cosa di quello che collezionano le persone che mi seguono, magari condividiamo appunto le stesse passioni se mi state seguendo. E niente, io vi mando un grosso bacio, fatemi sapere sotto cosa ne pensate di questa collanina. spero che questo piccolo spacchettamento vi sia tornato utile. A me sarebbe tornato utile quando ho fatto l'acquisto, quindi ho voluto farlo anche per questo. Io vi mando un bacione, come sempre vi lascio gli ultimi video usciti, il mio bollino è il bollino di Wish. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!